Il tema della fusione di Aset è un tema delicato e non mi sorprende che ci sia un dibattito acceso, però bisogna porre dei paletti, porre dei confini anche nei comportamenti. Quindi ho iscritto al Consiglio di Amministrazione di Aset Holding, poiché sono di nomina sindacale, quindi di nomina politica, gli invitati a non più intervenire pubblicamente, perché poi diventa un dibattito politico, poiché loro rappresentano un ruolo tecnico e tale deve rimanere, ho anche chiesto di revocare la diffida che è stata inviata, perché è un'iniziativa che si presta a strumentalizzazione politica e rischia di andare al di là del vero ruolo e di non mettere anche in buona luce il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Quindi su questo sono stato chiaro nella lettera che ho inviato e mi aspetto altrettanti comportamenti chiari. Poi detto questo, avanti con la fusione, nel pomeriggio ho avuto anche un incontro con i sindaci soci, perché io il percorso lo voglio condividere anche con loro, oltre con le forze politiche, con i gruppi consigliari del Consiglio Comunale, perché una scelta come questa va condivisa. Quindi anche su questo saranno risposte immediate per questione di giorni, perché è una posta questione fine e quando è il momento di decidere, di dire basta, è il momento di farlo e questo è il momento. Quindi le posizioni saranno chiarissime e ognuno poi si assume delle proprie responizità nei propri ruoli che rappresenta.